Il finale ha in acqua di questo incerto rosso ragazzi maschi, i regoli italiani di Simone Savioni, intenzione 2012, con 56,18. Questa mattina, Lorenzo Alessi, del risanotto, con 54,20, con 57,85. Questa mattina, Lorenzo Alessi, con 27,74, a passare in vantaggio, su Emanuele Flava, 28,10. Lui, a colombia, in terza protezione per la chieda, in corso 2,18. Ultimi bracciate di questa finale, cento rosso ragazzi, 56,74. Il corso centesimo del italiano, l'Aleccio Alessi, in corso di questa finale, su ultimo dono Parano, c'è un'altra parte, con un'altra parte, con un'altra parte, con un'altra parte, con il terzo posto, Lorenzo Mora, con un poco modena, con 57,61. Grazie!